Ha squillato a vuoto il telefono del call center IMSS nella giornata odierna. Infatti è stato programmato il pagamento del reddito di cittadinanza e di altri bonus e ristori. Lavoratrici e lavoratori dei call center impegnati sulla commessa IMSS hanno incrociato le braccia. Lo sciopero nazionale è stato proclamato da CGL, CISLE e WILE e coinvolge circa 3.300 lavoratori di Comdata e Network. A Lecce interessate centinaia di lavoratrici e lavoratori che hanno lasciato i telefoni sul tavolo. La protesta è legata alla mancanza di certezze del personale impegnato sulla commessa. Oggi 27 settembre scioprano i lavoratori impiegati su commessa IMSS, circa 3.500 su tutto il territorio nazionale. Sciopriamo perché pensiamo che il processo di internalizzazione annunciato dal presidente IMSS tridico faccia acqua da tutte le parti. C'è una legge dello Stato che garantirebbe la continuità occupazionale e tutti i diritti acquisiti, ed è la clausola sociale. È impensabile che una committenza pubblica voglia affossare uno strumento di civiltà, quale è la clausola sociale. Andrea Schirinzi, SLC, CGL e Lecce